Buongiorno. Dottore. Venga, andiamo al studio. Vieni a via le Arabi. Ma non vedessi proprio... Ma fanno un casino, stanno tutto il giorno proprio... Io sono Javier. Perché quando te ne vai È davvero come se Capissi per la prima volta L'uomo che sarai Perché tutto quel che hai Prima o poi lo perderai In ottunno foglie e rami Se riporta il frano Tu non me l'hai adottata! Vivo! Tu non me l'hai adottata! Oh! I miei figli ho pozzato come lei È amico tuo. La vita ipotetica Qui la vista era magnifica Da oggi significa Che ciò che siamo stati Non saremo più Non saremo più E aum Non saremo più Non saremo più